ragazzi un uccellino mi ha detto che motor race lo storico negozio di segrato è aperto anche qua in centramilano in via fontana numero 5 e allora loro dicono di essere il negozio dei motociclisti per i motociclisti andiamo a scoprire se è così però qualcosa mi dice che è vero perché tra l'altro dentro ci lavora una mia vecchia conoscenza permesso ecco la mia vecchia conoscenza tutto bene tutto benissimo non avete sapere che simone la persona alla quale affido sempre gli amici conoscenti clienti appassionati quando devono scegliere un casco una giacca insomma li mando da lui esatto però eri a segrate ero segrate adesso mi sono trasferito da motoressa milano c'era bisogno qua a milano esattamente bel negozio bravo grazie mille siete qua in due siamo in due però io sono sempre qua mentre diego è il mio titolare che lo trovo a segrate allora è l'uccellino che mi ha chiamato dai dai lui lo lasciamo lavorare che starà controllando i numeri di vendita vediamo se fai il bravo esatto esatto descrivimi un po moto race conosco l'altro però questo adesso vedo già un po di accessori caschi sì assolutamente diciamo che trattiamo più o meno 360 gradi un po tutti gli articoli della moto dai caschi agli accessori portacellulari agli oli ai blocchi a dischi da moto ai guanti borse serbatoio un po di tutto insomma in più c'è anche tutta la parte dell'abbigliamento al piano di sotto che è un po come era il vecchio negozio a milano dove entravi e trovavi un po di tutto esattamente al a differenza che questa sembra più una boutique c'è un negozio trovi di tutto come il vecchio negozio una volta però diciamo molto più moderno e un po come dite voi clubhouse quindi un po assolutamente studiato bravo bravo promosso bene vedo anche qualcosa per la bici bravi assolutamente torniamo da monopattini ormai lo sappiamo che ci si muove che così però adesso io sai che sono curioso anche soprattutto di abbigliamento di caschi li amo però dopo starei qua troppe ore da scendiamo a vedere cosa c'è di sotto anche perché devo parlare di due tragettini non ti voglio rubare il lavoro però devo farlo andiamo dai ed eccoci simone al piano inferiore avevate ragione allora quando avete scritto 170 metri quadri quindi non 400 come segrate però insomma un bello spazio e poi tanti oggetti 2500 caschi tra i due negozi esattamente vedi che non mentivo bravo bravo hai ragione tanto abbigliamento vedo urban da turismo insomma un po di tutto un po di tutto esattamente soprattutto trattiamo il marchio giondo e non a caso siamo qua insomma avete fatto avete ricreato un bel angolino per appassionati come me di cafferese con questo gusto un po retro con un bell'occhio però alla sicurezza assolutamente e allora altrettanto assolutamente adesso lavoro io te vai su a vendere perché altrimenti poi diego vedi che i conti non si torna perché vi presento tre prodottini a mio parere interessante va bene ci vediamo a dopo ciao ciao ed eccomi solo soletto che vi posso parlare di questi tre prodotti a mio parere molto interessanti ho guardato sul catalogo giondo allora ho detto già che vado a motor race ho visto che loro distribuiscono questo marchio tedesco che opera dal 2001 ho detto parliamo di tre prodotti interessanti perché a mio parere deve passare nell'immaginario comune che possiamo vestirci bene andare a fare l'aperitivo uscir con la morosa andare in città insomma fare la vita di tutti i giorni andare anche in ufficio però ben protetti con dei capi che apparentemente sembrano capi casual però sono capi da moto e ne è la riprova il primo prodotto ovvero moto shirt che vedete apparentemente è una camicia un po custom cafferester però resiste bene alle abrasioni resiste agli urti perché ha le protezioni sulle spalle sui gomiti e possiamo anche inserire il paraschina che tra l'altro vi ho messo qua esposto i ragazzi di motor race ne hanno addirittura due uno più corto uno più piccolo e a mio parere questo è un prodotto molto interessante anche per i ragazzi più di più giovani andiamo a scuola andiamo dagli amici non dobbiamo vestirci come se andassimo a una gara di moto gp possiamo vestirci bene con un prodottino che comunque ci protegge ecco moto shirt che viene venduta a 259 euro perché ricordiamo non è una camicia è sostanzialmente una giacca quindi a tutti i concetti di una giacca da moto anche la sua bella presa d'aria nella parte sotto la manica ma anche nella parte posteriore non si vede però fidatevi di me le tasche e poi ovviamente essendo un capo da moto abbiamo sia la chiusura con l'automatico ma anche la cerniera perché in caso di caduta speriamo di no facciamo incrociamo le dita non deve ovviamente aprirsi prodotto interessante perché lo abbiamo detto a 259 euro mi porta una a casa una camicia che è anche una giacca e posso usarla tutti i giorni però come diciamo sempre proteggo il busto però devo proteggere anche le estremità i guanti lo abbiamo detto lo avete visto vanno sempre indossati se teniamo le nostre impronte digitali perché la prima cosa che si tocca per terra quando vado a cadere sono le mani però anche le scarpe ricordiamo che in caso di caduta la prima cosa che perdo sono le scarpe a ginnastica sono quelle e allora mi compro una bella scarpettina come questa per ogni gusto direi che è proprio questo questa è bellissima ragazzi posso andare veramente a scuola uscire con gli amici vado a bere una birra e guardate ho una bella sneaker però quella che vi presento oggi che è perfetta per chi magari è un po più fighetto da città o ha una moto cafferese ma perché no anche una scrambler è questa iron black che è uno sostanzialmente uno stivaletto apparentemente diciamo casual e invece è una scarpa da moto interno in kevlar come tutte le scarpe da moto anche questa suola antisfondamento protezione del malleolo protezione della parte posteriore resiste alle abrasioni agli intagli insomma una scarpa vera da moto e sono bello tranquillo e viene venduta a 189 euro quindi anche questa è la dimostrazione che ho posso comprare una scarpa a un prezzo inferiore di una scarpa di moda ma ho le protezioni di una scarpa da moto lo stesso prezzo diciamo che tutte le scarpe che poi vedete qua alle mie spalle una più bella dell'altra a mio parere vengono vendute mediamente tra i 169 euro e 189 euro quindi meno di una scarpa di moda che lo sapete quanto può costare ecco altra cosa interessante dicevamo mi vesto bene quindi protezione superiore mani scarpe arriviamo per forza di cose anche al jeans una bella selezione qua dagli amici di motor race abbiamo il pantalone cargo intramontabile sempre bello e poi il jeans che è ovviamente ancora più portabile se uno va per esempio in ufficio abbiamo il pantalone quello un po più estivo dove il cotone è diciamo annegato insieme al kevlar quindi respira un po meglio e poi mio parere questo è bellissimo invece abbiamo la parte esterna e poi il kevlar che è sostanzialmente un secondo strato e quindi perdiamo un po di traspirabilità e di diciamo respira un po meno però è perfetto per la mezza stagione l'inverno quindi sicuramente un prodotto interessante ve lo faccio vedere così abbiamo chiara l'idea 249 euro ecco è un prezzo sicuramente inferiore a un jeans di moda un po più superiore a un jeans da battaglia però dicevamo viene venduto anche con le sue protezioni ecco si parla di jeans bisogna per forza di cose parlare anche di certificazioni allora john do con i suoi prodotti riesce ad avere la tripla praticamente quella che si guadagnano le tute in pelle ovviamente non andate col jeans in pista perché non vi fanno entrare e tra l'altro faccio i complimenti agli amici di john do perché guardate questa è la scatola con la quale vi portate a casa il jeans quindi abbiamo scatola con il suo disegno e all'interno vedete il jeans con le sue belle protezioni anche con il moschettone insomma e la sacca in cotone bravi bravi perché quindi possiamo utilizzare il jeans per andare perché no in piscina se andiamo a piedi andiamo in macchina tanto è caduto tutto lo scatolone dopo tanto ci sarà simone che metterà a posto e posso non mettere la protezione vado in moto la inserisco e sono bello tranquillo ho praticamente concluso però mi raccomando come vi dico sempre vestiamoci bene quindi casco allacciato stretto massima protezione stiamo attenti paraschiena sempre ve li ho indicati tra l'altro dicevamo guardate qua dai ragazzi motorist troviamo le protezioni aggiuntive se vogliamo comprarne qualcuna in più e poi abbiamo anche il paraschiena questo è quello un po più lungo ma c'è anche un po più piccolino insomma il paraschiena viene 29 euro e 90 davvero il prezzo di una serata con gli amici però ci proteggiamo la colonna vertebrale perché ricordiamo il 75 per cento di trami alla colonna vertebrale è imputabile al mancato utilizzo del paraschiena quindi indossiamolo e sfrutto gli amici di motorist per questo piccolo messaggio pubblicitario però prima di rilassarmi a leggere qualcosa scegliere magari un capo d'abbigliamento vi devo invitare a seguire i nostri amici di motorist sui social sono molto bravi tra l'altro fanno sempre anche dei quiz interessanti vi danno dei consigli insomma seguiteli e poi motorist punto it dove trovate tutti questi prodotti anche se il mio consiglio vi prego venite in negozi andate nei negozi perché un bravo venditore un bravo commesso può fare la differenza e quindi magari spendete qualcosa in più non è detto però tutto quello che spendete in più è conoscenza acquisita quindi andate in negozio tirate li matti soprattutto simone tanto ha pazienza da vendere ok ciao finalmente dopo il test di un casco sotto l'acqua il recensito in redazione e poi il servizio qua dagli amici motor race un po di meritato riposo adesso mi sfoglio il catalogo di john do e mi scelgo una bella scarpetta che mi mancava con calma tanto c'è tempo c'è tutta la sera grazie a tutti Grazie per la visione!